Parliamo ora della divisione di monomi. Un monomio è divisibile per un altro monomio non nullo se il primo monomio, detto dividendo, contiene tutte le lettere che figurano nel secondo monomio, detto divisore, elevate ciascuna a esponente maggiore o uguale a quella che ha ciascuna nel monomio divisore. Prendiamo ad esempio il seguente esercizio. Meno 5a alla settima, b alla quarta per c, tutto diviso, 3a alla sesta per b alla quarta per c. Ora, la domanda è, è divisibile o no questo dividendo per questo divisore? Osserviamo che a qui è elevato alla settima e qui è elevato alla sesta, quindi ok per quanto riguarda la a. Qui b elevato alla quarta, che è uguale a b alla quarta qui, quindi anche per quanto riguarda la lettera b è possibile la divisione, lo stesso per la lettera c, quindi possiamo dire che il nostro primo monomio è che è divisibile per il secondo. Prendiamo in considerazione il seguente esempio numero 2. Allora, a alla quinta, b alla seconda per c, tutto diviso, a alla sesta, b c per y, tutto uguale. Vediamo se è divisibile oppure no. Vediamo facilmente che non è divisibile. Innanzitutto perché qui nel primo monomio, cioè nel nostro dividendo, è presente il numero 5 per quanto riguarda la potenza, mentre qui abbiamo 6, quindi non è divisibile per quanto riguarda la lettera a. Lo potrebbe essere sia per la lettera b che c, ma poi è presente un altro problema. Al nostro divisore è presente una lettera che non è invece presente nel dividendo, quindi possiamo dire che questo secondo monomio non è divisibile per questo secondo monomio, quindi non divisibile. Ma come si calcola il quoziente di due monomi divisibili? Il risultato della divisione di due monomi è rappresentato dal monomio che ha per coefficiente il quoziente dei coefficienti e come parte letterale il prodotto delle lettere che figurano nel dividendo, quindi nel primo monomio. Ciascuna con esponente uguale alla differenza tra l'esponente che ha la stessa lettera, nel dividendo e quello che ha nel divisore. Allora, vediamo il seguente primo esempio. Supponiamo di effettuare la divisione tra 3a alla terza b al quadrato diviso 2a b al quadrato. Per prima cosa riportiamo questa divisione in forma di frazione, quindi avremo 3a alla terza b al quadrato, tutto diviso 2a b al quadrato. Tutto uguale, allora, più diviso più fa più, 3 diviso 2, 3 mezzi. Per quanto riguarda la parte letterale avremo a elevato alla 3 meno 1, quindi 3 meno 1. Per quanto riguarda b, invece, 2 meno 2, quindi tutto uguale, più 3 mezzi, a alla seconda, mentre b alla 0 farà 1. Vediamo quest'ulteriore esempio. Allora, un mezzo x alla terza y al quadrato diviso 2x al quadrato. Allora, rimettiamo tutto in forma di frazione, quindi avremo un mezzo x alla terza y al quadrato, tutto diviso 2x al quadrato, che sarà uguale, allora, più diviso più farà più, poi avremo, per quanto riguarda la parte numerica, un mezzo per questo 2 ribaltato, quindi per, di nuovo, un mezzo. Per la parte letterale, invece, avremo x alla 3 meno 2, e per quanto riguarda la y, invece, rimarrà così com'è, cioè y al quadrato. Tutto uguale, quindi, a più, un mezzo per un mezzo fa un quarto, x, perché 3 meno 2 fa 1, per y al quadrato.